Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio delle spettatori, siamo a Montesilvano in via Tagliamento dove al primo piano della palazzina alle mie spalle si è consumato il terribile delitto di cui parlavi, due cadaveri rinvenuti l'uno sopra l'altro in una pozza di sangue, al loro fianco un coltello, ferite da taglio su entrambi i corpi, segni di strangolamento sul corpo della donna e l'ipotesi più accreditata, come dicevi, è quella di omicidio o suicidio, probabilmente si è trattato di un femminicidio. Una famiglia di origine rumena, lui un 50enne muratore in cassa integrazione, lei una 41enne addetta alle pulizie, un figlio di 10 anni che al momento del tragico gesto si trovava a scuola, probabilmente è così che sono andate le cose, una volta accompagnato il bambino a scuola, una volta tornati a casa c'è stata una discussione tra la coppia che ha portato al delitto. L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa che ha sentito le urla della donna, sono subito intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, poi i carabinieri della compagnia di Montesilvano e del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara che hanno provveduto ai rilievi del caso, stanno ancora provvedendo ai rilievi. Sul posto anche un'ambulanza che non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due. Vivevano qui da circa tre anni ma si trovavano in Italia da molto di più. Una famiglia di gente per bene, ben integrata nel quartiere, ci hanno raccontato i vicini di casa sbigottiti per quanto è accaduto. Allora direi proprio di ascoltare le testimonianze dei vicini di casa. Abita proprio accanto a dove è avvenuta questa tragedia e li conosceva? Sì, sì, come no. Che famiglia era? Una famiglia normalissima, lavoratori, la moglie pure lavorava. Non mi escono le parole. Non era successo mai nulla che avrebbe potuto far pensare un esito del genere? All'interno della famiglia, uno non lo sa, però ha visto fra di noi e con noi, è stata una bravissima persona, rispettosa, tutto il vicinato qua gli voleva bene, tutto. Lei questa mattina ha sentito qualcosa? Ma no, io sono rientrato adesso perché faccio il camionista, sono stato fuori. Sto rientrando adesso, mi ha chiamato mia moglie e mi ha detto guarda, così e così è successo. Una cosa non me l'aspettavo. E qui comunque nel quartiere vi conoscete, vi aiutate l'un l'altro? Ma certo, ripeto, fino a quest'estate mi ha dato pure una mano a petturare a casa, qui, tutto tranquillo. Mi ha detto qualche volta dobbiamo andare a fare una gita insieme, in famiglia, vieni su a casa mia. Mio genere l'ha aiutato a portare sul frigorifero, aveva comprato il frigorifero nuovo. Era stato ma venti giorni o un mese in Romania con la famiglia, era tornato, mi ha riportato la birra, romena, tieni, assai. Cioè, normale, come uno di noi, capito? Era romeno, però era un italiano ormai, capito? Si era ben amalgamato qua con la vita nostra. Da quanto tempo siete stati vicini di casa? Eh, da quando è venuto qua, sarà 4-5 anni che ha comprato l'appartamento, è venuto qua e prima non lo conoscevo. Però si è sempre ben arrivato, si è presentato, ci siamo conosciuti, la famiglia qua la conosco tutti. Io sto qua dal 2000, quindi niente, non lo so. Perché poi qui vi conoscete nel quartiere e vi aiutate l'un l'altro? Ma insomma, questa strada, siamo tutti noi. Questa strada, io ci abito ormai da 20 anni, è una strada super tranquilla. Alla fine circoliamo noi e quelli che transitano con le macchine. E diciamo che facciamo la vicinanza tra di noi, tra di noi ci facciamo la vicinanza delle... E lei ha sentito nulla? No, stamattina no, perché io ho la camera dall'altro lato, non ho sentito niente. Un sole che mi è venuto a suonare, mi ha detto, hai sentito qualcosa? Ho detto no, non l'ho sentito, perché... E l'ha saputo dai carabinieri? No, l'ho saputo dal mio vicino che mi ha suonato prima, che lui ha detto, ho chiamato i carabinieri. Io gli ho rimproverato, anche se hanno fatto discussione una coppia. Perché hai chiamato i carabinieri? Ha detto, ma io ho sentito dei gridi forti. Ma anche Paolo? E no, Nicola. Ah, Nicola? A me Nicola mi ha chiamato. Ma io gli ho sentito questi gridi. Ha sentito il grido di lui, ma un lamento più che un grido, un lamento. Ecco, perché lui mi ha detto, se lui è sole, se è sentito male. Quando mi ha detto a costruire mi è venuta un po' la trevarella. Abbiamo ascoltato le parole dei vicini di casa. Il tutto è accaduto questa mattina tra le otto e mezza e le nove. Quando il bambino, per fortuna, di dieci anni si trovava non in casa ma a scuola, è stato poi affidato ai servizi sociali, in quanto in Italia non ci sarebbero parenti della coppia. E in questo momento stanno procedendo, stanno concludendo i rilievi del caso, i carabinieri. E sul PM è intervenuta, oltre al medico legale, anche la PM Fabiana Rapino. Prossimi aggiornamenti, se non ci sono domande, nell'edizione delle 19. Linea allo studio. Solo una curiosità, Giuseppe, perché pare che la pista omicidio-suicidio sia stata quella immediatamente indicata e che sembra avere maggiori riscontri. È vero tutto questo? Sì, assolutamente. Anche perché pare che non ci sia alcun segno di infrazione in casa. I due sono stati ritrovati l'uno sull'altro con un coltello vicino. Ci sarebbero anche segni di strangolamento sul corpo della donna. Quindi non solo omicidio-suicidio, ma finora le dinamiche, quanto trapelato finora, lascia pensare che addirittura si è trattato di un femminicidio.